buonasera a tutti voi buonasera a tutti amici juventini e noi sono contento sono soddisfatto sono soddisfatto di questa juventus che ci dà la gioia la gioia la gioia di poter dire che siamo una grande squadra di merda ci ha dato la conferma in tutta onestà che questa è una squadra di merda perfetto chiuso le virgolette chiuso le virgolette facciamo schifo facciamo schifo è una squadra senza idee senza personalità senza mentalità ma dove vogliamo andare dove vogliamo andare seconda sconfitta stagionale allegre che cazzo fai allegre allegre non è colpa tua non è colpa tua allegre è colpa di questa società è colpa di questa dirigenza di merda è anche colpa tra virgolette di tutto tutto il ravadan che c'è in questa in questa in questa società in questa in questa squadra chiamata juventus tutto un assieme tutto un assieme di di confusione all'interno dello spoiatoio non lo so fatto sta che ormai non c'è più una rinascita ormai il ciclo è finito il culo è finito ovviamente qua non si parla di di vincere a culo di vincere 1 a 0 di fare di entrare in campo e di poter fare una partita decente no l'avventus non non ha più non ha più uno schermo di gioco non ha più lavoro anche la volontà perché un pochettino la voglia ci potrebbe anche essere però non c'è non c'è non c'è la cattiveria non c'è non c'è sincronismo tra giocatori non si capiscono non si capiscono sono in confusione totale non hanno non hanno non sono veloci abbiamo giocatori che sono scarponi giocatori giocatori che non sono correre giocatori che non vedono che non si inquadrano neanche la porta non inquadrano neanche la porta sbagliano sbagliano sempre ragazzi siamo proprio giocatori che non vedono la porta giocatori che sbagliano davanti alla porta siamo proprio arrivati alla sopportazione neanche non abbiamo più sopportazione da parte da parte di noi tifosi eventini siamo veramente neanche le sgoccioli proprio proprio non riusciamo a inquadrare abbiamo non riusciamo a inquadrare uno schema di gioco una mentalità che non c'è non c'è mai stata da tre quattro anni cinque quello che quello che quello che quello che vedete quello che pensate ma non c'è più non c'è più non c'è più una eventus da capo né coda questa eventus dove finita la eventus c'era c'era una volta la eventus c'era una volta tanto tempo fa tanto la mentalità non c'è più ragazzi la mentalità non c'è più siamo arrivati al culmine di non sapere cosa cosa hanno intenzione di fare questa diligenza agnelli nerd che è una figura che non esiste non lo so è lì tanto che non lo so se fa parte della diventus non lo so non ha non ha voce in capitolo lasciamo perdere agnelli neanche neanche a qui perché noi capisci niente del calcio noi capisci niente del calcio vera pensate voi ragazzi non sinceramente guardate io io godo adesso perché ormai non ormai non abbiamo più speranze neanche di vincere la champions questa squadra di merda un gioco inesistente che non c'è se tutto va bene non so se andiamo in europa league se andiamo in europa league abbiamo non lo so verona che corre corre pressa pressa fa quello che vuole ha fatto quello che vuole verona ha fatto quello che vuole cioè abbiamo abbiamo fatto giocare il verona noi non abbiamo creato un'azione degna di poter di poter tirare in porta l'unica 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 occasioni c'era come kenny che ha segnato bene fortunatamente casualmente ma il secondo gol tanto non è il classico giocatore che ti risolve la partita un gol occasionale non è il calcio non è il calcio di poter tirare in porta morata non esiste nello iventus eeeh 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 non riusciamo neanche a a a farci un giocatore a a diciamo darli a a dirbreaker un giocatore a scattare un giocatore passiamo se passavano sempre indietro della palla a arretraiamo sempre in difesa ragazzi siamo ripeto siamo una squadra di m3 che non riusciamo a dare a dare un pelino di gioco ma non è colpa di potrebbe anche essere colpa dei giocatori ovviamente ma ovviamente se ovviamente è un mercato sbagliato fatta da una dirigenza incompetente allegri ti hanno richiamato dopo dopo due anni un anno due anni adesso non lo so che non sapevi che non ti ricordi neanche di come allenare una squadra cioè la eventus ti riprende dopo due anni di riposo adesso due anni mi pare sì due anni di riposo per vedere cosa per vedere cosa una un ridicolo un ridicolo un ridicolo di 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 non lo so ragazzi io e poi e poi di e poi e poi agnelli dice siamo siamo stracompetitivi abbiamo le carte di essere competitivi agnelli fate nascondere fate nascondere insieme al tuo mio al tuo amico allegri guarda 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 ragazzi non vi dico neanche di iscrivervi al canale perché tanto faccio rari video e non sono tanto attivo sul canale però dai qualche iscrizione così nuova tanto per tanto per ragazzi io sono veramente stanco di vedere una squad senza anima senza senza voglia senza senza stima di poter indossare la malla di poter indossare la malla di eventus giocatori che per me non fanno parte di giocatori che per me che hanno perso che hanno perso il il carisma di di stare a eventus e non lo so giocatori intropici giocatori che per carità ci hanno ci vogliono cioè vogliono avere che ci provano si impegnano però che si impegnano però più di tanto quindi qui li lascio adesso fino alla sanno dare e basta fino alla sanno dare quelle sono le capacità di ogni singolo giocatore basta allegri allegri non è non è più non è non è più una non è non è più un allenatore che fa parte di una eventus che ormai non c'è più è inutile che l'allenna perché ormai non si capisce più neanche lui di come viene e di come verrà che ormai verrà gestita questa 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 viventus però se se la dirigenza fa affidabilità ad allegri ancora perché amico danielli andiamo veramente male andiamo veramente male e la si capisce la mentalità vecchia di un allenatore incompetente che non sa che non sa perché è alla juventus un allenatore che non sa perché è alla juventus è messo lì alla juventus perché amico perché è amico di daniele però per il resto non ci ha mai capito niente da quando è ritornato alla juventus e con questo ragazzi chiudo il video e siamo a posto io sinceramente non mi piace più vedere vedere l'alimentus mi viene lo schifo lo schifo mi viene non ho più orgoglio di vedere una squadra che non ha più più niente da dire e niente ragazzi ci sentiamo e non faccio allungare il video più di tanto perché più di tanto quindi la sono i discorsi e non penso di non penso di dire cose diverse da altri youtuber più o meno competenti però io sono io sono competente ma proprio a livello basso basso proprio elementare del calcio perché perché il calcio non è che non è che si capisce più di tanto però però l'obiettività di vedere una juventus così che io sono realista e da è una vergogna di fare una juventus inesistente e con questo ragazzi vi saluto ciao a tutti e alla prossima e tanti dicono forza juventus fino a fino a fino a quando la fino a quando la la dobbiamo sopportare questa juventus a posto ciao ragazzi e